Un'altra edizione da record, un altro successo, un'altra estate di sport e amicizia. Il win-win Summer Camp ha visto la partecipazione di oltre 200 bambini per 7 settimane di puro divertimento e di apprendimento. Felici e non poteva essere altrimenti sia i grandi che i piccini. Hanno potuto provare tutte le discipline sportive, baseball, beach volley, calcio a 5, tennis, basket e tante altre attività. Comeriggi dedicate ai laboratori di musica, disegno, inglese e cucina insieme a una vera e propria grande famiglia di animatori. È una squadra che è già formata da diversi anni e alcuni addirittura avevano iniziato a essere loro quelli che venivano animati e adesso sono diventati animatori. Per cui il gruppo sta crescendo, è ben affiatato e anche tra di noi ci si diverte. Abbiamo fatto calcio, baseball, basket, beach volley e altri sport. Mi sono divertito tanto perché ho conosciuto altri amici. Questa estate è speciale per me perché sono stato con tanti miei amici come Leonardo, Lorenzo e tanti altri. Un camp che ha visto tutti tuffarsi nel divertimento, in piscina. Una bella esperienza anche per noi animatori. Quando arrivavamo in piscina li consegnavamo agli istruttori, molto gentili e cordiali. E finito il corso ce li restituivano e noi li aiutavamo a cambiarsi, a fare la doccia e tutto quanto, per poi tornare al centro estivo e far merenda. Novità di quest'anno, i laboratori in cucina dove tutti si sono trasformati in piccoli chef. Abbiamo fatto i baci di dama, dei bie e altre ricette. Poi ho fatto anche il laboratorio di arte e abbiamo fatto delle maschere e abbiamo dipinto dei disegni. Ciao!